Non è tanto vino Grazie, è un piacere averti qui, ti abbracerei Battaglia e battagliera, come sei tu nella vita? Eh beh sì, un nome, omen omen, sì sì, beh assolutamente, il nome del, cioè il cognome di questa marina battaglia dà l'idea di che tipo è questa donna insomma, ma anche le figlie devo dire, anche le mie compagne di viaggio che sono le mie figlie, cioè Barbara Bobulova e la, diciamo, la primogenita Avvocato ma anche antagonista della madre, Nina che è Miriam Dalmazio e Marina Occhionero che è invece la più piccolina che non fa l'avvocato, ecco perché non è in questa... Anche fa la babysitter Fa la babysitter, non ha l'ambizione materna e neanche delle sorelle probabilmente, ma insomma è una famiglia al femminile assolutamente, quindi con un capofamiglia donna e tre figlie femmine, quindi non male, un bel gruppetto Tu come madre sei il collante anche delle loro ambizioni, delle loro aspirazioni, no? Sei una donna forte, molto dura Assolutamente, diciamo che anche quando non ci sono le figlie parlano di me o sparlano di me, perché comunque questa marina non è proprio una tenera, diciamo Cioè non è che non provi i sentimenti, ma insomma fa un po' fatica a dimostrarli e soprattutto vuole che le figlie siano forti, che non cedano a, come dire, a debolezza o fragilità Soprattutto dei loro clienti, perché diciamoci la verità, quando ci si separa, voi siete avvocati divorzisti Sì, divorzisti Intanto è sempre un lutto, è sempre una tragedia, c'è sempre un grande dolore, trasporto, ma poi forse in quei frangenti si conosce meglio anche il partner che stiamo lasciando Sì Perché escono fuori molte verità Sì, però non lo so questo sinceramente, non me lo sono mai chiesto Diciamo che l'avvocato che difende il cliente in una causa di divorzio ovviamente viene a conoscenza di cose anche intime della relazione Cioè entri nella vita privata, intima di una coppia e ci sono ovviamente modi diversi di affrontare questa cosa Infatti nella serie il mio personaggio li affronto in maniera molto più distaccata, più cinica se vogliamo, anche scorretta a volte Rispetto alla figlia Anna Bobulova, che invece crea più empatia con il cliente, la cliente Allora tu hai interpretato tante volte il ruolo della madre, lo hai fatto sia in versione più leggera, sia in versione invece molto drammatica, molto importante, di impegno sociale eccetera Però forse la più grande ispiratrice dei tuoi personaggi di madre è la tua mamma, perché avevi un rapporto bellissimo con lei È stata un po' un capo per te, no? Una guida Sì, un faro sicuramente, perché era una donna di grande carattere e simpatia, indubbiamente, cultura E anche libera, nel senso che pur venendo da una generazione che faceva forse un po' più fatica di noi ad affermarsi nella vita Lei comunque alla fine ha fatto un lavoro che le piaceva, insegnava all'università, si è sposata, ha fatto dei figli Insomma, come dire, ha tenuto tutto insieme, come facciamo anche noi e come fanno anche le ragazze più giovani di noi Ma insomma, è quindi stato per me un grande riferimento, un grande modello Allora, mandiamo un'anticipazione, poi ti voglio fare una domanda invece su di te come mamma di un ragazzo Perché è importante più che mai oggi, che è passata la settimana dedicata alla donna, fare un pensiero anche su questo Un'anticipazione di Studio Battaglia Sì Siamo avvocati, Anna, non siamo preti Non vengono da noi per sentirsi dire dove sbagliano Vengono per avere ragione anche quando hanno torto Ciao, Mary Ecco un lato positivo Da vent'anni non sento più nessuno chiamarmi Mary Anche a te ti trovo molto bene, sai? Grazie Perché sei tornato? Perché? Perché voglio incontrarle, no? Sono le mie figlie Le farai soffrire Ma no, adesso sono donne adulte Come se le adulte non soffrissero Non volevo dire questo, dico solo che Anna ha una sua famiglia Viola si sta per sposare E Nina? Nina, Nina la conosciamo, quella ha il suo caratterino, è sempre stata quella più tosta Si vede che di donne non ci capisci proprio niente Martedì prossimo su Rai Uno, la prima puntata di studio Battaglia Anche Massimo Ghini Massimo Ghini che ritrovo dopo tanti anni e dopo raccontami Ma se avete notato i dialoghi, le battute sono perfetti Cioè veramente è raro trovare una sceneggiatura scritta da Lisa Noor Così proprio, come dire, dove non devi aggiungere niente, togliere niente Neanche una virgola Questo per noi attori è un grande privilegio È una grande fortuna Ecco, quindi ringrazio la sceneggiatrice Ovviamente la produzione Palomar, la Rai Tutti che hanno messo in piedi questo progetto Il regista Simone Spada che ci ha da maschietto condotto tutto questo gruppo di donne in maniera brillantissima Un pensiero ai ragazzi Sì Agli uomini di oggi Che forse non hanno ancora trovato il modo di interpretare le donne di oggi Me lo fai? Interpretare? Beh sì, alle volte non ci si capisce, no? Mettiamola così Sì Che cosa si deve imparare in amore adesso? In amore? Oddio, una domandona, non lo so, non ero preparata Non lo so cosa si deve Tanto l'amore ci coglie sempre impreparati È inutile starci girando intorno Sì, certo Io penso che sì, le nuove generazioni forse hanno qualche strumento in più, no? Per riuscire a... Dovrebbero perlomeno, insomma, per riuscire a interagire con l'altro sesso, insomma, no? Quindi, diciamo, i nuovi giovani uomini, ecco, mi auguro, lo spero che sempre di più, come dire, accettino la libertà femminile non come una menomazione, ma come un vantaggio, ma come una ricchezza E solo credo che sia una cosa, diciamo, elementare, molto semplice, perché evidentemente non lo è, fino in fondo, perché la cultura patriarcale ancora fa fatica a capire e soprattutto ad accettare la libertà delle donne, la forza delle donne Ci tenevo che tu dicessi questo concetto, grazie Lunetta Savino, grazie Grazie a voi, grazie a te E grazie a te